Ciao a tutti, in questo video si parla di calore. Dare una definizione di calore non è semplicissimo. Sicuramente possiamo dire che è una forma di energia, chiamata anche energia termica, che come tutte le forme di energia non si vede, ma è in grado di operare delle trasformazioni sulla materia. Come anticipato nella pagina e video relativo alla temperatura, il calore non è una proprietà dei corpi, ma un qualcosa che si trasferisce da un corpo all'altro. Per poter capire intuitivamente cos'è il calore, immaginiamo di porre a contatto due corpi, uno più caldo, a sinistra, a temperatura più alta, vediamo le sue particelle che vibrano in maniera più vigorosa, e uno più freddo, a temperatura più bassa, rappresentato a destra. Colorato in azzurro, le sue particelle appaiono più tranquille. Come già sappiamo, la temperatura di un corpo riflette la velocità a cui si stanno muovendo le sue particelle. Quando i due corpi sono messi a contatto, quelle più movimentate del corpo più caldo si scontrano con quelle più calme del corpo più freddo, trasferendo loro parte della loro energia di movimento, detta anche energia cinetica. Così facendo, le molecole del corpo a temperatura maggiore perdono parte della loro energia, quindi il corpo, inizialmente più caldo, comincia a raffreddarsi, e quelle dell'altro invece la acquistano, quindi il corpo, inizialmente più freddo, si riscalda. Il calore rappresenta appunto la manifestazione di questa energia di movimento, che si è trasferita tra i due corpi. Un corpo a temperatura più alta avrà una maggiore tendenza a cedere calore ad altri corpi con cui è a contatto o all'ambiente, mentre uno a temperatura minore avrà una minor tendenza a cedere calore ad altri corpi o all'ambiente. Il calore è quindi una forma di energia che si trasferisce sempre in un solo verso, dal corpo a temperatura maggiore a quello a temperatura minore, e che ha come effetto quello di causare variazioni di temperatura, ovvero di velocità delle particelle, nei corpi che lo assorbono o che lo cedono. In questa animazione vediamo una simulazione del trasferimento di calore tra due corpi, in questo caso due quantità di acqua a diversa temperatura, una volta che vengono messe a contatto. Ecco, vediamo acqua calda a sinistra più fredda a destra. Sono immersi due termometri nei due contenitori che rilevano due temperature diverse. Inizialmente hanno temperatura ambiente, successivamente andranno in equilibrio con la temperatura delle due quantità di acqua. vediamo che a sinistra sale perché quel corpo è più caldo dell'ambiente. Quello che noi possiamo misurare sono variazioni di temperatura, ciò almeno che noi andiamo a misurare direttamente. Quindi inizialmente abbiamo acqua ad 80 gradi nel contenitore a sinistra, a 20 gradi nel contenitore a destra. Per ora i due corpi non sono a contatto, le due quantità d'acqua e i due recipienti non lo sono e quindi non c'è scambio termico. Ma guardate adesso che cosa succede. Adesso afferriamo il recipiente contenente acqua più fredda e lo immergiamo in quello contenente acqua calda. Chiaramente le due quantità d'acqua non si mescolano, ma i due recipienti in questo momento sono a contatto. Andando ad immergere due termometri, se abbiamo ben capito quanto è stato detto poco fa, dovremmo vedere il termometro a sinistra che inizia a scendere. L'acqua inizialmente calda si raffredda perché ha trasferito parte del suo calore all'acqua più fredda nel recipiente più piccolo. D'altra parte, nel termometro invece immerso in quest'ultimo recipiente più piccolo, osserviamo la salita della temperatura. Potremmo chiederci se questo trasferimento di calore continuerà all'infinito, cioè se l'acqua inizialmente calda congelerà e quella inizialmente fredda a un certo punto arriverà per esempio a bollire. In realtà no. Vediamo che ad un certo punto questo trasferimento di calore si arresta. Quando e perché si arresta? Potremmo chiederci infatti fino a quando continua lo scambio di calore tra i due corpi. Ad esempio, quando arriva sulle nostre tavole un piatto di minestra calda e fumante, non possiamo iniziare a mangiarla subito perché ci scotteremmo, ma dopo pochi minuti il nostro piatto di minestra avrà ceduto all'ambiente una quantità di calore sufficiente a raggiungere una temperatura tale da poterla mangiare in sicurezza senza scottarci. D'altro canto, ad un certo punto lo scambio di calore deve venire a cessare perché nessuno ha mai visto il proprio piatto di minestra congelare in tavola neanche dopo ore o scendere a una temperatura inferiore a quella della stanza. Possiamo dire che il trasferimento di calore tra corpi a temperatura diversa dove uno dei due può anche essere l'intero ambiente si ferma al raggiungimento dell'equilibrio termico ovvero quando i due corpi a contatto si trovano alla stessa temperatura intermedia tra le due iniziali. Nel caso in cui uno dei due corpi sia l'ambiente che è molto più grande di un qualsiasi oggetto caldo o freddo posto in esso il corpo acquisterà o cederà calore fino a trovarsi alla stessa temperatura ambientale. Vediamo adesso un altro interessante fenomeno relativo al calore ovvero vediamo come sostanze diverse o quantità diverse della stessa sostanza reagiscono all'assorbimento di calore ovvero come varia diversamente la loro temperatura quando assorbono una determinata quantità di calore. Iniziamo proprio con un video che ci illustrerà questa caratteristica delle sostanze che è la capacità termica. mettiamo in due padelle due quantità diverse di acqua in una 200 grammi e nell'altra 400 grammi dopodiché le mettiamo entrambe a scaldare su di un fornello su due fornelli diversi ma della stessa qualità ovviamente che forniscono lo stesso calore e per lo stesso tempo. Che cosa osserviamo? Che l'acqua presente in minore quantità inizia ad agitarsi mentre invece quella a destra rimane più tranquilla il che vuol dire è che si riscalda di meno. Non solo ad un certo punto vediamo addirittura l'acqua a sinistra dove erano solo 200 grammi ovvero dove era di meno che inizierà a bollire prima rispetto all'acqua a destra. Tra poco tireremo le somme. Ora invece l'esperimento viene ripetuto mettendo la stessa quantità di due liquidi diversi sui due fornelli. A sinistra acqua a destra una stessa quantità di olio. Nell'olio immergiamo un termometro che ne rivela la temperatura. Ovviamente entrambi i liquidi assorbono la stessa quantità di calore. A un certo punto l'acqua a sinistra inizia a bollire il che vuol dire che siamo a 100 gradi però osservando il termometro a destra vediamo che la temperatura dell'olio è molto più alta di 100 gradi pur avendo assorbito la stessa quantità di calore. Che cosa è successo? Questi schemi mettono in luce i due aspetti se così possiamo dire dello stesso esperimento. Quindi abbiamo visto che spegnendo i fornelli la temperatura raggiunta dai due liquidi acqua ed olio bene abbiamo visto che l'olio si trova a una temperatura maggiore addirittura a 40 gradi in più rispetto all'acqua che inizia a bollire a 100 gradi. Questo a parità di tutte le altre condizioni ovvero di potere calorifico del fornello di tempo di riscaldamento e di quantità di liquido. Questo vuol dire che alcuni liquidi come l'olio si riscaldano e raffreddano più velocemente altri invece come l'acqua più lentamente. Questo si quantifica dicendo che ciascuna sostanza ha un diverso calore specifico e diciamo che il calore specifico dell'acqua è più alto rispetto a quello dell'olio ovvero per innalzare di un grado la temperatura di una certa quantità d'acqua è necessario più calore rispetto a quello che serve per aumentare di un grado la temperatura di una stessa quantità di olio. Abbiamo però visto che il riscaldarsi più o meno velocemente il raffreddarsi più o meno velocemente dipende anche dalla quantità di sostanza. Ecco qui la prima parte dell'esperimento visto prima lo possiamo vedere riassunto in quest'immagine lo stesso tempo due quantità diverse di acqua stavolta quantità diverse dello stesso liquido abbiamo visto che bolle prima in questo caso diremmo il recipiente in quest'immagine a destra ovvero quello dove è contenuta meno acqua come mai nonostante le due quantità di acqua abbiano assorbito la stessa energia termica per lo stesso tempo perché nel recipiente rappresentato a destra che era a sinistra nel video quella stessa quantità di energia se la sono dovuta dividere meno particelle meno molecole e quindi ciascuna individualmente ne ha assorbita di più e quindi ha iniziato a vibrare in maniera più rapida fino a scappare dal liquido e a diventare gas viceversa nel recipiente rappresentato a sinistra la stessa quantità di energia se la devono dividere tra di loro più molecole e quindi per ciascuna singolarmente ne è disponibile di meno e quindi ci vorrà più tempo e più energia assorbita per portare ad ebollizione o per variare la temperatura di una quantità maggiore di acqua questa proprietà dei corpi e delle sostanze di comportarsi in maniera diversa rispetto al riscaldamento all'assorbimento in generale di calore si chiama capacità termica e dipende da due fattori il primo ecco qua rimettiamo l'immagine il primo è la massa ovvero la quantità di materia e quindi il numero di particelle della sostanza che assorbono calore il secondo è il calore specifico che dipende dal tipo di sostanza è alto ripetiamo per sostanze che aumentano di poco la temperatura anche assorbendo grandi quantità di calore e l'acqua ha un elevato calore specifico ed è basso per sostanze come l'olio o anche l'alcol che invece vedono variare di molto la loro temperatura anche per assorbimenti e cessioni di calore molto più modesti la capacità termica di una certa quantità di sostanza si ottene proprio moltiplicando la massa della sostanza per il suo calore specifico anche il calore come la temperatura è una grandezza misurabile ed ha una sua specifica unità di misura anzi ne ha due diverse l'unità di misura tradizionale del calore ma non riconosciuta dal sistema internazionale pesi e misure è chiamato caloria la caloria ha una definizione molto particolare si definisce esattamente come la quantità di calore necessaria di innalzare di un grado centigrado la temperatura di un grammo di acqua distillata la caloria come qualunque altra unità di misura ha un suo multiplo decimale che è la chilocaloria che corrisponde esattamente a mille calorie e che corrisponde alla quantità di calore necessaria per innalzare di un grado la temperatura di un chilogrammo di acqua distillata la misura diretta del calore è sicuramente più complessa rispetto a quella della temperatura e diciamo che soprattutto quando si tratta però di determinare il potere calorifico di un determinato combustibile è importante poterla fare e si effettua in questi dispositivi piuttosto complessi che si chiamano calorimetri dove la sostanza in esame viene messa a bruciare all'interno di una piccola camera chiusa che sta dentro a un recipiente contenente acqua quindi la vediamo rappresentata a destra la sostanza che viene bruciata in questo recipiente è immerso un termometro mano a mano che la sostanza brucia trasferisce calore all'acqua circostante la cui temperatura aumenterà questo aumento di temperatura è misurato tramite il termometro immerso e mediante apposite formule da questo si può risalire al calore sprigionato abbiamo detto però che la caloria è un'unità di misura non riconosciuta dal sistema internazionale l'unità internazionale si chiama in un altro modo si chiama Joule prende il nome da James Prescott Joule famosissimo scienziato fisico britannico il quale realizzò questo esperimento mise a ruotare come vediamo in questa simulazione tramite dei pesi e delle carrucole mise a ruotare delle palette all'interno di un recipiente contenente acqua come vedremo tra poco facendo zoom sul termometro si vedrà che questo va ad innalzare incrementando il movimento delle molecole e la temperatura dell'acqua questo vuol dire che il calore non è altro che una forma di energia esattamente come quella liberata dal movimento di parti meccaniche di conseguenza si è andata definendo l'unità di misura internazionale del calore che è chiamata Joule e c'è un'equivalenza ben definita fra calorie e Joule laddove una caloria corrisponde a circa 4,16 Joule grazie a tutti